Fabiana Sargentini per cinemaitaliano.info, figlia di Fabio Sargentini, Anna Papparatti, famosissimi artisti galleristi. Fabiana, oltre che essere regista, blogger, youtuber, ho visto che hai anche un canale su youtube, esce col suo nuovo film a Roma Film Fest, La Pittoressa. Non si è disaffezionata, nonostante diciamo anni e anni vissuti nel mondo dell'arte, questa realtà, questo mondo. Guarda, è la vita che ti porta a sentire l'esigenza creativa di fare qualcosa, quindi due anni fa c'è stata questa assurda luce su mia madre, casuale, Dior che ha visto dei quadri che mia madre aveva fatto negli anni 60 e li ha amati e li ha proposto di fare una scenografia, mi sono detta se non lo racconto io, chi lo racconta lo dovevo raccontare e quindi no, non mi sono disamorata del mondo dell'arte, ci sono dei momenti in cui vanno raccontato e si fa. Possiamo dire che l'arte non tramonta mai, è sempre diciamo un argomento di cui non possiamo non discutere? Io credo di sì, nel senso che il bello, l'estetica è importante e l'arte dà gioia, dà gioia alle persone, al cuore, quindi inevitabilmente sì, io penso che bisogna sempre raccontarla. Suo padre ha dato spazio a molti artisti nella sua galleria, passando dal teatro alla scultura, al figurativo. Lei pensa che ci sia un'espressione artistica che riesce a veicolare meglio un messaggio, cinema incluso ovviamente, visto che anche la sua arte. Io non so tenere in mano un pennello e non faccio assolutamente, non sono artista in nessun senso, però non credo che ci sia una classifica tra le arti. L'esigenza creativa la butta con lo strumento che è il suo forte. Io uso il cinema, mia madre la pittura, mio padre aveva il talento di scoprire talenti.